La lotta al caporalato parte innanzitutto dall'accoglienza e dall'integrazione e questo è il principio che sta alla base del progetto Incas, promosso da Lanci in tutta Italia e che parte proprio dalla Basilicata. Il comune capofila è Lavello, qui prima che altrove è stato presentato un piano chiaro che punta a rendere meno dura la vita dei braccianti agricoli. Provare a superare uno dei temi legati alla presenza di lavoratori stagionali, soprattutto in agricoltura, che è quello di dargli un tetto sopra la testa, uno dei problemi basilari, per evitare che queste persone ovviamente trovino situazioni di fortuna creando tensioni a se stesse ma anche ai territori che accolgono. I fondi ci sono, li ha già definiti in bilancio il Ministero del Lavoro e in Basilicata i primi progetti sono già pronti. L'obiettivo è quello di avviare e realizzare nei tempi più rapidi possibili le due strutture per l'accoglienza su Lavello e su Venosa e però l'altro impegno è sicuramente quello di sviluppare un'attività di prevenzione. Garantire condizioni di vita dignitose ai lavoratori stagionali è il primo strumento di prevenzione e la Basilicata non può ignorare il problema, visto che tra le regioni con la più alta percentuale di accoglienza di migranti in Italia rispetto alla popolazione residente e poi non può mancare l'impegno delle imprese. Ritengo che con la grande collaborazione che oggi parte possiamo raggiungere dei risultati importanti e cercare di limitare sempre di più l'utilizzo di persone a nero e invece spingerle ad emergere attraverso la legalità. Per il momento però i numeri delle aziende che aderiscono alla rete del lavoro agricolo di qualità sono ancora bassi. Su circa 3.000 attività in provincia di Potenza solo 19 hanno conquistato questo bollino di legalità.